L'aggiunta di una nuova fermata a Castiglione-Cosentino avrebbe comportato un aggravio di tempo di circa 25 minuti, il che avrebbe vanificato il tentativo di dare un treno ad alta, a media velocità, in quella tratta fra Sibari e Roma e Bolzano. Un messaggio chiaro e deciso che Gianluca Gallo, assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile, ha sottolineato ancora una volta dai nostri microfoni, mettendo fine alle preoccupazioni emerse recentemente. Come si ricorderà, i sindaci dell'area cosentina chiedevano una fermata del treno a lunga percorrenza nella stazione di Castiglione-Cosentino, che avrebbe potuto causare disagia ai collegamenti attuali ad alta velocità. Il Frecciaross Sibari-Bolzano dunque non cambierà itinerario, non avrà nuove fermate, ma... Alle legittime aspettative di quell'area cercheremo, insieme al Presidente Occhiuto, di dare ulteriori risposte, naturalmente dialogando, come abbiamo sempre fatto e come faremo in futuro con Trenitalia.